Dopo aver pubblicato il recente What's on my Android dedicato a Galaxy S8, molti di voi mi hanno tempestato di commenti dicendo Andrea ma perché usi il telefono con l'interfaccia stock, hai un S8, personalizzalo un po', beh rimane quello che dicevo, cioè a me piace anche usare il telefono così come è stato pensato. Però in questi giorni la Samsung Experience è arrivata a un punto in cui ho detto, boh voglio provare a personalizzarlo questo S8 come avevo già fatto anche con altri smartphone, soprattutto con i Cinesoni che quando arrivano con quella classica interfaccia stock sono brutti, sono tutti uguali. Però con S8 l'interfaccia mi stava piacendo, ho deciso però di cambiare e allora vi faccio vedere in questo video come ho personalizzato il mio Galaxy S8 inaugurando però una nuova serie dedicata ai launcher per i dispositivi Android. Questa prima puntata sarà quindi legata non solo alla personalizzazione di Galaxy S8 ma anche all'analisi di quello che secondo me è il miglior launcher per Android, ossia Nova Launcher. Andiamo a scoprire quindi entrambe le cose, come ho personalizzato S8 e cosa è e come funziona e cosa consente di fare Nova Launcher subito dopo la sigla. Allora ragazzi eccoci qua, ecco la personalizzazione del Galaxy S8 fatta con Nova Launcher. Allora intanto vi faccio vedere la personalizzazione e poi vediamo come è possibile personalizzare lo smartphone con Nova Launcher. Nova Launcher che è gratuito ma c'è anche la versione a pagamento, io ho questa e consente di fare qualcosina in più. Allora la schermata di partenza è questa qui, non c'è schermata a sinistra, ho utilizzato delle icone personalizzate che vedremo dopo. Ho utilizzato questa barra di ricerca intanto perché una un po' più squadrata stonava perché Galaxy S8 insomma ha questo schermo con i bordi qui curvi, stava decisamente meglio questa ricerca così un po' arrotondata anche perché quella di Galaxy S8 nativa è fatta così. Ho scelto il logo, cosa che si può personalizzare tramite Nova di Google ridotto anche perché appunto così era nella barra di ricerca standard dell'interfaccia di Samsung e poi appunto ho personalizzato un po' il telefono. Intanto vedete questa disposizione di icone così è ovviamente fatta per facilitare l'uso con una mano perché ovviamente così con il pollice tenendo in mano il telefono arrivo a coprire meglio le icone più in alto. Se lo utilizzo però con la sinistra ovviamente c'è un problemino ma mi basta far questo, cioè mi basta prendere il widget e spostarlo di qui e ho comunque risolto però ovviamente con l'uso principale con la mano destra mi trovo benissimo così. Allora c'è questo widget, widget del calendario che consulto spesso in questo modo vedete posso andare a scorrere e a guardare i prossimi impegni soprattutto i compleanni in realtà ma quando voglio aggiungere qualcosa mi basta fare così. Vedete mi apre direttamente la creazione nel calendario, calendario app tradizionale insomma di sistema in questo caso quella personalizzata da Samsung. Qui sopra ho messo le applicazioni che uso di meno rispettivamente che però uso, uso ma uso meno cioè Play Store e Maps ad esempio le utilizzo in due situazioni specifiche quando voglio aggiornare o scaricare qualche nuova app oppure quando sono in macchina e mi serve la navigazione. uso anche con frequenza relativa Dropbox e OnePassword messe lì in una posizione un po' più difficile da raggiungere mentre più si scende e più si scende su applicazioni che utilizzo. Netflix e Castabox per i podcast ad esempio iniziano ad essere app che uso. Qui c'è fotocamera, foto, Instagram, Slack, messaggi, YouTube, Whatsapp, Facebook, Twitter, Telegram. Quindi in questa zona, quella più facile da raggiungere con solo il pollice, ho messo le app che uso di più. E poi nel doc ovviamente mi porto dietro le applicazioni principali per la musica, il browser, Feedly per l'RSS, Gmail, Telefono eccetera eccetera. Passiamo alla seconda pagina, stessa impostazione della prima, vedete sempre le due icone qui, le due file d'icone che però in questo caso vengono interrotte da un widget con gli RSS. Questo è l'RSS condiviso che utilizziamo noi di Tech per gestire insomma la scrittura di articoli sul nostro sito. Io posso andarle a leggere o semplicemente a consultarle direttamente da qua senza aprire alcuna applicazione. Ma se voglio posso ovviamente farlo, ho qui l'applicazione di Feedly per un motivo. Ma cosa più importante di tutto è posso andare anche a marcare come letto o come non letto le varie notizie direttamente da questo widget. Che quindi per me è veramente molto comodo. L'altro widget che in realtà non abbiamo visto è questo qui, è quello della ricerca Google tradizionale. Quindi non ve ne parlo neanche, ha la possibilità di attivare Google Now e di ricercare tramite testo dei nuovi contenuti. Quindi passiamo alle applicazioni che abbiamo visto, c'erano quelle più importanti sotto e lo stesso discorso vale qua. Più si sale, più ci sono app meno importanti. Ad esempio qui c'è No Root Firewall che utilizzo quando utilizzo delle sim particolari con dati limitati. Vado a limitare un po' l'utilizzo dei dati appunto da parte delle applicazioni. Forza, PlayStation, Orologio sono applicazioni che utilizzo meno. Più si scende, più ci sono applicazioni che utilizzo frequentemente. E in realtà è tutto finito qui. Ci sono solo queste due pagine. Però con Nuova si può fare anche altro. Ad esempio ho modificato un po' di azioni. Con Nuova se premevi il tasto Home richiamava questa schermata. Ho disattivato questa funzione perché appunto mi risultava un po' scomoda. Ho ingrandito leggermente le icone. Allora adesso iniziamo a parlare di questo Nuova Launcher. Come vedete questa è la schermata di Nuova Launcher. Potete creare da qui una nuova pagina. Potete impostare la home page trascinando insomma le pagine all'inizio. Abbiamo sfondi. Ci sono un po' di sfondi Nuova che in realtà sono solo questi tre e non sono granché. Questo sfondo invece che è quello che utilizzo l'ho trovato all'interno dell'app sfondi e temi di Samsung. Quindi lo trovate lì dentro. Qui ci sono i widget che sono i widget di un po' tutte le applicazioni. Non ci sono widget esclusivi di Nuova. Ah, non vi ho detto che questo qui è Cronus, altro widget molto popolare. Ho acquistato la versione completa perché altrimenti non mi consentiva di avere questo tipo di widget. Ed era quello che volevo. Gli altri gratuiti non mi piacevano. E non vi ho parlato neanche dell'app drawer che in realtà c'è. È a scorrimento così un po' come sui pixel. L'ho lasciato bianco perché mi piace di più. Il nero poi si confonde un po'. Ho lasciato anche i colori dei testi, delle applicazioni in modo come era insomma di default. Si può modificare tutto questo con Nuova e quindi andiamo a vedere. Andiamo nelle impostazioni. Nuova è uno dei launcher più completi in assoluto. È probabilmente il launcher più completo in assoluto. Abbiamo la possibilità di personalizzare la schermata home scegliendo il layout delle icone. Ad esempio la dimensione, il colore, l'ombra. Impostarle su singola riga e così via. Possiamo anche scegliere la larghezza del margine, l'altezza del margine. Nella barra di ricerca fissa che io ho attivato perché quella barra non è un widget ma resta lì fissa. E appunto come vi dicevo si può anche personalizzare lo stile sia del logo Google sia della barra di stato. Io ho scelto quello stile lì perché mi piaceva di più. Non ho attivato effetti di scorrimento che però si possono attivare. E cambiano insomma un po' l'esperienza quando si scorre. Non ho attivato lo scorrimento infinito. In sostanza con lo scorrimento infinito ve lo faccio vedere. Se andiamo qui possiamo scorrere in modo infinito. Vedete io ho solo due pagine ma alterna sempre tra le due. Questa cosa non mi piace tantissimo. Non ne vado pazzo quindi la ridisattivo. Ho selezionato questo indicatore di pagine. Di default attivo questo qui. Si può cambiare anche questo aspetto. È veramente un launcher completissimo. Ho disattivato l'auto aggiunta dei collegamenti. In sostanza quando installo nuove app non mi vengono creati dei nuovi collegamenti nella home. Queste sono una serie di opzioni avanzate che non vi consiglio di usare perché non sono alla portata di tutti. E non cambiano poi granché. Si può personalizzare anche la griglia del menu delle app nonché della schermata home. Lo stile del menu delle app possiamo scegliere se farlo orizzontale, verticale o stile elenco. Impostare uno sfondo per la scheda. Insomma ci sono tantissime opzioni ragazzi. Nuova è veramente super completo. E vi anticipo che una cosa interessante che si può fare con Nuova è condividere il backup della configurazione che io condividerò con voi nella descrizione del video. Quindi se volete avere questa stessa configurazione che ho io mi basta andare in descrizione, scaricare il backup e poi attivarlo tramite Nuova. Potete personalizzare anche il dock ad esempio attivando lo scorrimento infinito anche qui. Scegliere il numero di icone, scegliere lo stile del dock se averlo rettangolare, con rettangolo arrotondato, in forma di arco, piattaforma. Insomma ci sono tante tante opzioni. Abbiamo poi le cartelle, qui non ho toccato nulla, cartelle lasciate esattamente come erano. Possiamo scegliere il tipo di sfondo, l'animazione di transizione, veramente tanto tanto tanto. Aspetto, qui ho impostato, ho scaricato un po' di pacchetti di icone, ma quello che ho impostato è Candy Icons, che è questo qui. E mi piace tanto perché queste icone sono particolarmente giocose, non sono proprio infantili, ma sono giocose e come stile mi piace un sacco. Quindi torniamo qua dentro, di nuovo in aspetto, possiamo scegliere anche di attivare l'orientamento in orizzontale dello schermo, l'orientamento predefinito. Possiamo armonizzare le icone, la dimensione, quindi renderle tutte più o meno uguali. Possiamo velocizzare le animazioni, un qualcosa che in realtà forse su questo S8 potrebbe anche servire, ma per il momento sto evitando di farlo. Possiamo scegliere le icone scure, ad esempio, o semplicemente attivare il fatto che tutta l'interfaccia diventi sul nero, questa si chiama modalità notturna, durante le ore notturne. Quindi io posso attivare la barra di ricerca nera e tutte le altre opzioni, in questo caso credo di averle attivate a prescindere, anzi no. Allora al calare della luce questa schermata diventerà tutta nera, così come la barra di ricerca. Questa è una funzionalità molto molto carina di nuova, che comunque mi piace tenere disattiva perché appunto poi già magari in orari in cui non è proprio buio va a rendere totalmente buio invece la schermata. Gesti azioni, anzi no, qua siamo su badge notifiche. Per avere il badge delle notifiche voi dovete attivare Tesla Unread, che è un'altra estensione di nuova, si scarica sempre gratuitamente e mi ero dimenticato di farla. Quindi attivo adesso i badge, potete scegliere anche la dimensione, vedete, li ho attivati in quella parte dell'icona e così mi piacciono. Gesti azioni, qui potete divertirvi ad abbinare azioni particolari alla pressione di tasti, all'esecuzione di gesture. Potete ad esempio scegliere con lo scorrimento verso il basso o verso l'alto di far uscire, non lo so, la schermata di spegnimento dello schermo o del dispositivo. Quindi si può fare veramente tanto da questa sezione e abbiamo poi infine la cosa forse più importante perché nuova, ha la possibilità di fare un backup e un ripristino delle configurazioni. Allora creo questo nuovo backup, l'ha salvato, possiamo anche condividerli su Dropbox come farò io per condividerlo con voi e poi quando voi avrete scaricato il mio backup lo potrete trovare tramite Dropbox, tramite memoria interna, insomma in un modo o nell'altro, ve lo passate sul dispositivo, lo selezionate, fate ripristina a questo backup e vi troverete praticamente la stessa configurazione che vedete qui sul mio Galaxy. Quindi una soluzione veramente molto interessante per consentire ad altri di avere configurazioni simili a quelle dei propri amici e così via. Ragazzi fatemi sapere se vi piace questa serie sui nuovi launcher, o meglio sui migliori launcher per Android. Vi preannuncio appunto che ho intenzione di portarla avanti con altri video su altri launcher, su altre personalizzazioni, quindi fatemi sapere se vi piace questa idea lasciando un like al video e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti da Andrea Cervone, da Galaxy S8 Plus e da Nova Launcher, noi ci risentiamo alla prossima.